Come vivere nell'abbondanza? Si parla spesso di vivere nell'abbondanza, di come vivere nell'abbondanza e molte persone dicono, ma io non posso, non ho questo, non ho quello. Allora, vivere nell'abbondanza non è avere dei beni materiali, non è necessariamente avere dei beni materiali. Ci sono persone che hanno tanti beni materiali ma vivono nella povertà, perché l'abbondanza è soprattutto un fattore mentale. Vivere nell'abbondanza significa prendersi cura di se stessi. Uno ricco, ricchissimo, che poi però è triste, depresso, stressato, non vive nell'abbondanza, vive nelle restrizioni, vive una vita a grama fondamentalmente. Se vuoi vivere nell'abbondanza devi imparare a prenditi cura di te ogni giorno, darti il meglio di quello che ti puoi dare, ma anche intellettualmente, mentalmente, mantenere la mente attiva, fare tante cose, avere tanti interessi, avere tante curiosità. Questo significa vivere nell'abbondanza. Metti un like con l'abbonamento base e puoi seguire tutti i miei seminari. Ciao!